La verità, era studiato quello schema su gol? Ammetto che avevamo provato la spizzata sul secondo palo, quindi l'abbiamo cercata, l'abbiamo trovata e sono stato io a trovarmi lì e a fare gol, a sbloccare la partita e metterla in discesa, perché comunque la Tristina era una squadra messa bene in campo che all'inizio ci ha messo in difficoltà, ma per fortuna il gol ci ha facilitato un po' la partita. Odo ci ha detto che state lavorando molto sulla fase difensiva, come difenderà il Perugia quest'anno? Sicuramente il Perugia di quest'anno difenderà in maniera diversa l'anno scorso, l'anno scorso magari abbiamo preso tanti gol, quest'anno puntiamo ovviamente a essere la migliore difesa del campionato, stare alti, corti e cercare di comunque rimanere sempre compatti e mettere in difficoltà le squadre avversarie. L'Asticella ora si alza, si va a Brescia? Sì, ogni partita sarà sempre più difficile, adesso pensiamo a Brescia, che l'anno scorso comunque ci ha sempre fatto soffrire, quindi puntiamo a rifarci, puntiamo a migliorare magari qualche aspetto che oggi non è andato bene, ma siamo fiduciosi e convinti che si può far meglio. Ti dovrai guadagnare il posto anche stanno? Certo, la concorrenza è tanta, come ogni anno, quest'anno comunque abbiamo una squadra forte che può puntare in alto, quindi è normale avere dei giocatori di livello con cui combattere e cercare di vincere il posto per la domenica. Sai di chi ha provato sto gol? Primo gol con Perugia? No, sicuramente è una bella emozione, era tanto che era spettacolo, l'anno scorso non ci era riuscito, partire così comunque fa piacere e vedere comunque esultare i nostri tifosi è sempre una bella emozione, quindi sono contento anche per la mia famiglia che è venuta qua e quindi direi ottimo. Grazie.